Grazie per supportare il nostro canale. La showgirl, entrata nel quarto mese di gravidanza, parla del sesso in dolce attesa. E' anche più bello fare l'amore in dolce attesa. Con la gravidanza non finisce certo la vita di coppia. Insomma, deve esserci sempre passione, spiega l'amore. Le voglie di Alessia Macari non si fermano al cibo, anche se soffre di nausea e spera che passino presto. Al momento non svela il sesso del bebè, lo farà il prossimo settembre con un gender reveal party. Un trend americano che pare ormai aver contagiato anche i famosi in Italia. Il bebè nascerà a gennaio, se sarà una femminuccia sta pensando di chiamarla Sia. Se arriverà un maschietto, invece, è molto attratta dal nome Maui. Le piacciono i nomi strani e particolari, anche il suo Olli è d'accordo. Grazie per la visione!